Buongiorno a tutti voi, bentrovati su Fanno TV, canale 17, questo è Occhio ai giornali, la rassegna stampa che tutte le mattine inizia insieme a voi la giornata, guarderemo naturalmente i principali titoli, però procediamo con ordine, santo del giorno e previsioni del tempo, sabato 28 marzo, oggi è San Sisto III, Papa, il sole è sorto alle 5.57 e tramonterà alle 18.30, il tempo, iniziamo vedendo i dati che ci rimanda alla nostra postazione meteo qua sopra, sopra la nostra sede, vedete la temperatura è 10,3, l'umidità è 83% e quindi anche il vento praticamente è assente e la foto del cielo sopra noi è quanto mai eloquente, è anche molto bella e anche molto spettacolare. Cosa ci dice invece la protezione civile? C'è poco da commentare, per oggi sabato 28 il cielo è sereno, poco nuvoloso, con qualche nube residua, però solo nelle prime ore della giornata, come avete visto anche dalla foto della webcam, poi le precipitazioni, ci sarà qualche isolato e breve rovescio, però più che altro nei settori interni, le temperature sono in rialzo e vediamo quelle di domenica, di domani, la cartina è quanto mai eloquente, c'è poco da dire, cielo sereno, precipitazioni assenti, sole su tutta la nostra regione, sole pieno, cosa invece un po' diversa, però insomma appena appena velato, il cielo di lunedì, sereno, poco nuvoloso, però senza pioggia e anche qui le temperature sono in aumento e avete visto quindi che il tempo, almeno per questo weekend sulla carta, è buono, quindi se avete intenzione di fare qualche uscita fuori porta, il tempo vi assisterà. Guardiamo i titoli dei giornali, partiamo dal resto del Carlino, edizione di Fano, per una bella storia, una storia che racconta una vita, una vita anche di una strada, di un borgo, attraverso una famiglia che ha gestito e che gestisce tuttora un bar. Stiamo parlando del bar Berto, in Borgo Cavour, ha festeggiato 40 anni di storia, di storia naturalmente cittadina, però insomma si traccia anche un po' la riga, si fa la somma di questi anni di lavoro e il titolare dice, ma gli Iper ci stanno ammazzando una torta per festeggiare naturalmente un'epoca, come è giusto. Negli anni Ottanta dicevamo appunto, diceva il titolare, dice nell'articolo del Carlino, altri tempi, sotto Natale si vendevano fino a 500 panettoni, si guadagnavano anche 20 milioni, 20 milioni del vecchio conio, ora ne vendo soltanto 5 di panettoni. La storia, l'origine è dalla guerra, perché prima c'era l'osteria della nonna, poi è passato tutto al padre e ora a lui e quindi insomma una bella storia, 40 anni di vita in un esercizio commerciale, raccontano anche la storia di chi lo ha frequentato e della città che lo ha aspettato. Allora, urbanistica, facciamoci un hotel, parliamo della proposta di Santorelli che lancia questa idea, insomma il sindaco ha proposto di vendere il palazzo, è un'occasione da sfruttare, vedete il palazzo che si affaccia su piazza 20 settembre dove c'è anche l'ufficio informazioni del comune, Tosap e pubblicità più tempo per pagare, la scadenza slitta dal 31 marzo al 15 di aprile. Ultima pagina del resto del Carlino dedicata a Fano, la questione del porto e dei fanghi, vediamo che cosa sarà di questa annosa vicenda, due imboccature per eliminare i fanghi, questo è il progetto a lungo termine per il porto, intanto si punta al 1.700.000 euro per il dragaggio, per evitare le secche che appunto ci finiscono sopra i pescherecci e chi entra ed esce dall'imboccatura del porto, il sindaco, ogni anno dal canale Albani arrivano 80.000 metri cubi e quindi serve un contatto con il provveditorato e quindi ci sarà anche qui un'azione da dover fare a lungo termine perché insomma non si può sempre ragionare in termini di emergenza su cose così importanti. Andiamo nelle pagine che riguardano il Carlino per la città di Pesaro, Pesaro in primo piano racconta una vicenda di un pignoramento shock arrivato a dei pensionati, due anziani che vivono e sono residenti in una casa popolare a Pesaro. Un vecchio mutuo degli anni anni 80 del 1980 è in parte pagato, è lievitato da praticamente 30 milioni di lire, ecco volevo dare la cifra giusta, da 30 milioni di lire è diventato 200.000 euro, quindi il ricarico è passato al 1000% e inoltre poi la casa era già stata venduta all'asta, la disavventura di questi due pensionati si è consumata perché il debito residuo è stato ceduto dalla banca a diverse finanziari e ognuna ci metteva appunto il suo rialzo e sono diventati 200.000 euro e quindi shock per questi due pensionati. Appunto anche la cronaca in questa pagina del resto del Carlino, condannati i truffatori di strada, convincevano delle pensionate a ritirare i soldi in banca, pene che sono andate a tre truffatori, pene che sono state date dai due anni fino ai dieci mesi, solo uno si è pentito e ha chiesto scusa risarcendo in parte la vittima. Rimaniamo sulle pagine del Carlino, in primo piano anche la Benelli, la storica azienda motoristica pesarese che è passata di proprietà al controllo in Cina e propone un nuovo modello, una bicilindrica, 300 di cilindrata e Ian Himei dice che il futuro è di modelli personalizzati, la produzione di questo modello è stata studiata tra Pesero e la Cina ed è nata per puntare ai grandi mercati asiatici e quindi insomma bocca al lupo all'azienda e tutti i lavoratori naturalmente che ci operano. ancora le pagine di Pesero, noi sempre in lotta contro i vandari, il caso Amianto di via Becci, la proprietà si difende, gli ultimi danni è colpa delle potature perché i rami tagliati hanno sfondato il tetto in Eternit in più punti, vedete qui nelle foto l'interno dei capannoni e anche qui le lastre di Eternit lasciate all'esterno sono esasperati perché dice abbiamo fatto una serie di denunci, furti contivi e scarichi abusivi di materiali nell'area antistante alla fabbrica. Allora cambiamo il quotidiano, la testata, andiamo nel Corriere Adriatico, apriamo per quanto riguarda Pesero e parlare è l'amministrazione comunale, Pesero Servizi, risparmio ed efficienza, definito il progetto per la fusione tra Aspes, società dei parcheggi e agenzia per l'innovazione, nella foto vedete l'assessore Ricci tagliati, i compensi del CDA, un tetto per i dirigenti, il presidente sarà nominato dal sindaco e Pieri rischia il posto. Allora ancora dalle pagine del resto del Corriere Adriatico però andiamo a Fano, anche qui Fano, un hotel nel palazzo in città, la proposta di Santorelli per la sede urbanistica sposta esigenze di bilancio e turistiche, naturalmente un hotel in questo punto così bello della città di Fano sarebbe sicuramente utile a tutti i turisti. Seri ha annunciato la vendita dell'edificio di proprietà municipale per il patto di stabilità. Poi un'affermazione del sindaco che dice la Fondazione Teatro non si tocca, secondo la Giunta ha svolto un grande lavoro di promozione culturale necessario solamente ottimizzare le spese, si parla naturalmente di costi. Ancora una replica dell'azienda Marche Nord, si parla di sanità, in questa pagina del Corriere Adriatico di Fano, una risposta a Polligioni, l'esponente di prima l'Italia che denunciava una carenza di personale rispetto al carico lavorativo del reparto di pediatria dell'ospedale di Fano, così miglioriamo i servizi. Questa è la replica dell'azienda Marche Nord sul personale di pediatria. cambiamo testata, ultima che vi leggiamo, il messaggero come sempre è a tenere così in testa l'articolo principale, è la politica e il centrodestra diviso su spacca, quindi parliamo di elezioni regionali. Salvini della Lega in tv boccia la candidatura del governatore Cerioni di Forza Italia divisi perdiamo, dice. Nasce area popolare, nel PD è ufficiale, Marcolini non si candida, ultime ore per le liste. Nella pagina principale del messaggero di Pesaro, dramma a Villa Fastigi, è stato trovato morto in cella, il carcere di Villa Fastigi, il detenuto aveva 67 anni ed è stata naturalmente disposta all'autopsia per accertarne le cause. Giorgi spese pazze in regione, va avanti l'inchiesta sulle spese pazze dei consiglieri regionali, la Giorgi respinge le accuse spese in regione, interrogata l'assessore alle infrastrutture, il legale era residente a Matelica, lo abbiamo dimostrato, nessuna convocazione per spacca, che ha presentato una memoria. Gli occhiali, scambio di carte di credito, aveva già saldato tutto ancora dal messaggero. Andiamo a Pesaro, il processo sull'omicidio Ferri, a parlare è il fratello Michele Ferri, dalle pagine del messaggero, che dice, tutte bugie, Sabanov merita l'ergastolo. Ecco, vedete anche nella foto il fratello di Ferri, che parla con l'avvocato Maria Lucia Piazza, il fratello di Andrea, dopo l'interrogatorio in aula del Macedine, insopportabile, senza un filo di pentimento. È pericoloso, queste le sue considerazioni. Pagine ancora che riguarda Pesaro e la sicurezza stradale. I vigili urbani mettono in azione il Targa System e scoprono oltre mille mezzi con atti dei controlli falsificati e quindi senza la revisione, degli atti della revisione falsificati. Il comandante Galdenzi è un fenomeno molto diffuso, oltre 150 vetture trovate prive anche di assicurazione e questo è veramente grave perché poi se qualcuno ha un incidente con una di queste auto senza l'assicurazione sono veramente guai poi per avere i risarcimento. Ultima pagina, guardiamo il messaggero per quanto riguarda Fano e Dragaggio del Porto. Servono più fondi, questo è l'articolo. Seri, chiedo uno sforzo ulteriore. Il comune pensa a una cifra aggiuntiva sui 700 mila euro. Il sindaco naturalmente rivolge alla Regione il secondo appello in pochi giorni sulla questione appunto del Porto. Solidarietà a tavola in 140 con Fraternita del Brodetto e Consorzio Ittico. Pranzo per le famiglie in difficoltà. Bene, questa era l'ultima notizia che leggevamo sul messaggero per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi che tornerà naturalmente lunedì alle 7.30. Grazie per essere stati in compagnia e questa sera occhio alla notizia alle 20.30. Buon sabato e buona domenica a tutti voi.